Benvenuti a un nuovo test di grammatica italiana avanzata. Siete pronti a mettere alla prova il vostro italiano? Voi avrete 10 secondi di tempo per rispondere a ogni domanda e finito il tempo vi dirò qual è la risposta giusta e perché. Prendete carta e penna e iniziamo! La risposta corretta è la A. Avessi compreso. Il congiuntivo trapassato esprime un rimpianto per una mancata comprensione avvenuta nel passato. Dopo che il libro pubblicato ha ricevuto elogi da critici letterari. A. Era stato. B. Sarà stato. C. Fosse stato. D. E. Stato. La risposta giusta è la D. E. Stato. Il passato prossimo indica che l'azione di pubblicazione ha portato a un riconoscimento immediato. L'artista, per il suo stile unico, ha ispirato una nuova generazione di creatori. A. Conoscendo. B. Conoscerà. C. Conosce. D. Conosciuto. La risposta corretta è la D. Conosciuto. Il participio passato, come aggettivo, descrive una caratteristica stabilita e riconosciuta. Se maggiori fondi alla ricerca, potremmo accelerare il progresso scientifico. A. Allocare. B. Allocassimo. C. Allocheremmo. D. Abbiamo allocato. La risposta giusta è la B. Allocassimo. Il congiuntivo è usato per ipotizzare un'azione non realizzata che potrebbe avere effetti positivi. Il documento, da esperti internazionali, ha fornito nuove indicazioni sul tema. A. È revisionato. B. Revisionerà. C. Revisionato. D. Revisionando. La risposta corretta è la C. Revisionato. Il participio passato, usato come aggettivo, indica un'azione passata che ha contribuito al contesto attuale. Dopo la conferenza, le teorie del professore ampiamente discusse. A. Fossero state. B. Erano state. C. Saranno state. D. Sono state. La risposta giusta è la D. Sono state. Il passato prossimo indica che le discussioni si sono svolte a seguito dell'evento. I risultati hanno messo in discussione alcune convinzioni consolidate nel campo. A. Emergono. B. Emergeranno. C. Emergendo. D. Emersi. La risposta giusta è la D. Emersi. Il participio passato come aggettivo descrive un'azione passata che ha avuto un impatto significativo. L'autore, per la sua profonda analisi psicologica, ha influenzato la letteratura contemporanea. A. Celebra. B. Celebrato. C. Celebrerà. D. Celebrando. La risposta corretta è la B. Celebrato. Di nuovo, il participio passato come aggettivo indica un riconoscimento ottenuto per il lavoro svolto. Non appena... i risultati, il team ha iniziato a lavorare sulla fase successiva del progetto. A. Sono stati ottenuti. B. Fossero stati ottenuti. C. Erano stati ottenuti. D. Saranno ottenuti. La risposta corretta è la A. Sono stati ottenuti. Il passato prossimo indica che il conseguimento dei risultati ha permesso l'avvio dell'azione successiva. Se... una formazione più approfondita, i dipendenti sarebbero più efficienti. A. Hanno ricevuto. B. Ricevono. C. Riceveranno. D. Ricevessero. La risposta corretta è la D. Ricevessero. Il congiuntivo imperfetto qui è usato per ipotizzare un'azione non realizzata che potrebbe migliorare la situazione. Dopo che la proposta è approvata, sono state implementate nuove politiche. A. È stata. B. Sarà stata. C. Era stata. D. Possestata. La risposta corretta è la A. È stata. Il passato prossimo indica che l'approvazione della proposta ha portato all'introduzione di cambiamenti. La conferenza, per il suo approccio interdisciplinare, ha attirato un vasto pubblico. A. Lodando. B. Lodata. C. Loderà. D. Loda. C. Loda. La risposta corretta è la B. Lodata. Il participio passato, come aggettivo, qui descrive una caratteristica della conferenza che ha contribuito al suo successo. Se i risultati, stati diversi, avremmo modificato l'approccio sperimentale. La risposta corretta è la D. Fossero. Il congiuntivo trapassato, qui è usato per esprimere un'ipotesi su un evento passato che avrebbe potuto influenzare le azioni. Dopo aver un'intesa preliminare, i negoziatori hanno proseguito con le discussioni. A. Raggiungendo. B. Raggiungerà. C. Raggiunge. D. Raggiunto. La risposta corretta è la D. Raggiunto. Il gerundio passato, qui è utilizzato per descrivere un'azione che precede e condiziona un'altra. Il documento Una nuova luce sui processi storici del XX secolo. A. Gettato. B. Ha gettato. C. Getterà. D. Getti. La risposta corretta è la B. Ha gettato. Il passato prossimo è adatto per descrivere un contributo significativo o recente, come in questo caso. Fine delle domande. Come è andata? Quanti punti hai fatto? Fammelo sapere in un commento qua sotto. E se vuoi fare altri esercizi di italiano, clicca qui, ne troverai tantissimi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!